Per Travel Plan è qui con noi direttore commerciale Silvio Lanzone Allora Fulvio Lanzone, direttore commerciale Travel Plan, raccontaci in due parole senza vocali ovviamente Giro la ruota e compro la consonante Esatto, compro la consonante, chi è Travel Plan e cosa fa? Allora Travel Plan è un gruppo, è un tour operator spagnolo sbarcato un anno e mezzo fa in Italia È di proprietà del gruppo Globalia, non so quanti di voi lo conoscano, una holding enorme in Spagna Che è proprietaria anche di Air Europa, che forse è un marchio che conoscete meglio Siamo sbarcati l'anno scorso Sarà mica quella la compagnia di cui parlavamo? Sarà mica quella la compagnia di cui parlavamo, ma ho delle sorprese Abbiamo due programmazioni, una sulla Spagna ovviamente, uscirà a breve il catalogo nuovo E una su quella che noi chiamiamo Las Americas, tutti prodotti di lingua spagnola Quindi l'area caraibica con la Repubblica Dominicana, il Messico e Cuba e il Sud America Questo è un po' in sintesissima quello che facciamo Mi ricollegare a quello che diceva il professor Castoldi Noi facciamo cose magari un po' già viste, però visto che gli italiani amano il nuovo Le facciamo in modo nuovo, cerchiamo e siamo un'azienda nuova Assolutamente, poi secondo me avete un grande plus Non siete gli unici, però è comunque una cosa che vi contraddistingue all'interno del palmarès dei fornitori Che al di là ovviamente della collaborazione ravvicinata con questa compagnia aerea Che vi permette appunto di fare dei pacchetti un po' anomali rispetto alla charteristica normale Per cui chiunque di loro dovesse avere un cliente che vuole 5 notti a Ibiza, 12 notti di qua 47 notti di qua Ah ok Noi facciamo della... molti oggi si lanciano giustamente sul concetto di decidi il tuo tempo, decidi il tuo viaggio Perché è il cliente che ve lo chiede, noi lo abbiamo nel DNA Cioè questa è la nostra flessibilità Noi partiamo tutti i giorni sulle nostre destinazioni via Madrid in coincidenza E vi regaliamo la notte a Madrid se la volete In una bellissima struttura vicino a Baracca, in aeroporto State quanto volete, tornate quando volete Quindi facciamo della flessibilità un po' alla nostra arma vincente Chi non vorrebbe fare 4 notti a New York e 7 notti a Santo Domingo Fantastico, bellissimo E' quello che guardate, sono già prendendo che costruire Che faresti tu adesso Assolutamente Guarda anche senza le 4 notti a New York Con qualcuno che mi giro da una parte all'altra sul lettino Però detto questo, novità per la stagione che sta per iniziare? Sì, guarda, velocissimamente perché il tempo vola E' un catalogo Spagna ovviamente per l'estate molto molto interessante Con quote sempre più interessanti e aggressive Avremo, tanto ben intendi, ovviamente le Baleare e le Canare Ma guarda caso, ma guarda un po' Certo, non le Fiandre che non sono in Spagna, questo diciamo Neanche a Porto, perché visto che avevamo sparato anche a Lisbono Non ho capito, va bene Però avremo ad esempio, punteremo molto sui tour dell'Andalusia 11 partenze da Madrid con lingua italiana Avremo la Costa Brava, la Costa di Valencia E soprattutto Madrid, faremo tanto offerte su Madrid Per il lungoraggio le proposte che ci contraddistinguono Quindi combinati New York, dove atterra appunto l'Europa E i Caraibi E poi il Sud America Partiremo, questa è la grande novità Faremo sul catalogo Spagna un po' le corner Europa Che però non se ne avrà perché rimane la nostra compagnia di riferimento Perché voleremo, per aumentare proprio la nostra capacità La nostra flessibilità Anche con molte altre compagnie All'Italia, Whaling Eh beh, d'altra parte di necessità virtù Bravissima, esatto E Travel Plan e la tecnologia? Travel Plan e la tecnologia Noi l'abbiamo importata dalla Spagna Una piattaforma tecnologica, secondo me Ma anche secondo chi l'ha approvata Tra le più avanzate in Italia Noi abbiamo un sito www.travelplanitalia.it Dove col vostro codice potrete entrare Trovate due piattaforme sostanzialmente Una che è il prenota catalogo Potete prenotare tutto il vostro catalogo Ma soprattutto crea il viaggio Che esula un po' dalla nostra programmazione È una grandissima piattaforma di prenotazione È con 30.000 alberghi 400 compagnie aere collegate Quindi in tutto il mondo E a breve, a marzo Aumenterà in modo esponenziale Quasi raddoppierà la capacità Perché si collega ad altre piattaforme Qualcuno stamattina ti offriva l'XML E ce l'abbiamo anche noi Fantastico, ora ne parliamo da lunedì Perché così le mie ragazze Evitano di caricare tutto a mano Esatto, si vanno a pescare tutti i modi Mi sembra il lavoro dei certosini del medioevo Siamo nel 2012, possiamo farlo Magari ce la possiamo fare, esatto La cosa che secondo me è così Giusto per farti Visto che sei una new entry per noi Un nuovo amico Un nuovo amico Mi piace Ti piace? Ok, fantastico Cosa ci puoi dire della forza commerciale Che ovviamente hai a tua disposizione? Assolutamente, abbiamo in questo momento in Italia Quattro commerciali che girano in quattro regioni Qui per la Lombardia Ora parlo della Lombardia perché abbiamo Paolini Mi fa piacere presentarvele qui con me Paolina Zunino che copre la Lombardia Stiamo però allargando la nostra capacità Tempo scaduto No vabbè, ma finisci la fase E io sono uno preciso Sei svizzero, no? Sei svizzero, lo sai Lo so Stiamo però allargando la nostra forza commerciale Anche in altre regioni per garantire una copertura A tutte le agenzie che vogliono collaborare con noi Ti ringrazio Sono stato bravo Più di così, guarda Grazie Grazie, grazie mille Grazie a tutti